Siamo a Fano, nel Teatro della Fortuna, esattamente nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, nel corso della rassegna cinematografica organizzato dall'Associazione Liberamente. Siamo qui con Vito Inserra, Presidente dell'Associazione, e al quale chiediamo di illustrarci l'attività di questa associazione. Noi abbiamo visto in questa settimana che la manifestazione ha avuto un buon esito di pubblico, che ha partecipato numeroso in tutte le serate. Per cui immagino che l'attività di Liberamente sia molto conosciuta e molto apprezzata. Liberamente ha due corne di interesse, due campi in cui si spende principalmente. Un campo è la conoscenza e l'informazione sulla salute mentale. L'altro campo è la tutela dei diritti, o come chiamano gli esperti, l'advocacy. Quindi noi facciamo promozione da una parte, tutela dei diritti, quando ci sono presenti fragilità ovviamente. Dall'altra, ha una sua caratteristica liberamente, dovrebbe essere solo un'associazione di familiari e utenti della fragilità psichica. E invece si è data al suo interno una connotazione che è aperta alla società. La nostra associazione, quelli che sono toccati come me e che agiscono alla fragilità psichica tutti i giorni, se vogliamo pesare, fatta 100 l'associazione, si hanno il 50%. Tutti il resto sono amici, incuriositi intellettualmente e culturalmente di quello che esprime Liberamente e che quindi ci stanno intorno. Ecco, liberamente non è un'associazione di rivendicazione, è un'associazione che si occupa in questi due campi e poi pensa, progetta e promuove. Bene, quindi comunque voi ormai sono anni che siete sul territorio, per cui penso che avete una panoramica abbastanza completa. Ecco, com'è la situazione nella zona per quanto riguarda i problemi di salute mentale? Allora, se si riferisce alla zona della nostra regione, lo dico subito in due battute, la nostra regione negli ultimi anni ha perso parecchi posti nella graduatoria nazionale. Oggi siamo su un livello medio-basso per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di psichiatria sul territorio e quindi il concetto stesso culturale di salute mentale. Per quanto riguarda invece la nostra giurisdizione, ci troviamo a Fano, siamo in una situazione drammatica perché splendidamente nella graduatoria regionale delle 13 giurisdizioni regionali siamo all'ultimo posto splendidamente per spesa per abitante, quindi mancano servizi perché manca la compatibilità finanziaria adeguata. I nostri tecnici, i nostri operatori del nostro Dipartimento di Salute Mentale fanno quanto più è possibile fare, a volte anche l'impossibile, però non si costruiscono le cose con l'improvvisazione della buona volontà. Avete un'utenza molto allargata? Sì, gli ultimi dati ci dicono che in questa giurisdizione a Fano sono presi in cura circa 2000 casi, anzi abbiamo superato i 2000 casi, di tutto lo spettro che riguarda la fragilità psichica ovviamente fino ad arrivare alle psicosi, quelle più serie eccetera. e quindi ci sono parecchie, parecchie, centinaia e centinaia di famiglie completamente ghettizzate e abbandonate perché non possono avere una risposta adeguata, ahimè. Bene, ringraziamo Vito Inserra per la sua disponibilità. Mi faccia dire solo una cosa, lei ha detto che questa rassegna cinematografica ha avuto un buon successo di pubblico, è vero, glielo confermo perché ne ho fatte già altre quattro. Questa quinta, siccome io l'ho solo scritta ma non l'ho agita, l'ha fatta questa associazione culturale Elettra, noi stiamo avendo questi risultati di valore aggiunto proprio grazie alla gestione e alla scelta fatta e alla direzione fatta da questa associazione culturale Elettra che si occupa di ricerca nel campo della salute mentale femminile. Bene, ringraziamo per la precisazione e comunque abbiamo già in programma un'intervista anche all'associazione Elettra per cui dopo approfondiremo questo... Non ho bisogno di difendere. No, no, no. Bene, ringraziamo molto Vito Inserra per la sua disponibilità e facciamo tanti complimenti per questa meritevole attività e in bocca al lupo per il futuro, va bene? Crepi il lupo, crepi il lupo. Grazie ancora. Grazie, grazie a lei. Grazie a tutti.